Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Oggi, alle 10 e 30, presso i locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza Corleone, la Polizia di Stato di Palermo restituirà alla Diocesi di Monreale una preziosa tela, sottratta alla comunità corleonese nel 1970. L'opera d'arte verrà riconsegnata all'arcivescovo di Monreale Monsignore, Michele Pennisi, nell'ambito di una cerimonia che vedrà presente, tra le altre autorità, il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi. Il dipinto, raffigurante Maria Santissima del Lume, risalente al XVIII secolo e di autore ignoto, fino al giorno della sua scomparsa, occupava uno dei due altari laterali della Cappella dello Spirito Santo dell'Ospedale dei Bianchi, posta frontalmente ad una seconda tela gemella, della medesima epoca e di medesimo autore, tattora esistente e custodita presso la Chiesa Madre di Corleone. A distanza di tanti anni i poliziotti del commissariato corleonese, sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, hanno recuperato la tela in buono stato di conservazione.